Anticipazione in segreto, puntata serale domenica 19 febbraio 2017. Severo ha problemi di irrigazione alla tenuta, ma non immagina nemmeno lontanamente che essi possano dipendere da Hernando Dos Casas. Il giovane Matias, che ha cominciato ad interessarsi di politica, fa una strana scoperta sul conto di nonno Reimundo, mentre Camila cerca disperatamente di aiutare la giovane Beatriz. Prima parte. Problemi per Severo. Severo Santa Cruz si troverà ad un tratto in grande difficoltà all'interno della sua proprietà. Hernando Dos Casas, infatti, ha deviato i corsi d'acqua delle terre lasciando la miel amarga, che si riforniva di acqua da Eliral completamente priva di irrigazione. Severo inizialmente non penserà che la responsabilità dell'accaduto sia di Hernando. Come sempre, egli penserà che a creargli questo danno sia la solita Francisca, che sta cercando in tutti i modi di vendicarsi ed è pronta anche a sabotare le prossime nozze di Severo e Sol con i rispettivi compagni. Seconda parte. Una scottante scoperta. Come è noto, Reimundo lo ha sempre sposato la causa dei più deboli, ed in passato è stato vicino agli anarchici ed addirittura condannato alla pena di morte, all'esilio a Fuerteventura poi. Solo un'amnistia gli ha permesso di tornare a Puenteviejo e riprendere la vita di sempre. Ultimamente egli sembra essere tornato alle vecchie passioni, tanto da suscitare la preoccupazione di Francisca. Mattias, intanto, farà una scoperta piuttosto inquietante. Per caso egli troverà una valigia appartenente a Reimundo, che contiene del materiale per la stampa di banconote false. Messo alle strette dal nipote, Lulloa confesserà di non essere proprietario di quelle cose, ma di conservarle per conto dei sindacalisti. Ultima parte. Generosi tentativi. Mentre Ernando reagisce molto male alla notizia che Camila ha lasciato entrare in casa Francisca Montenegro, la Val di Salce sta cercando di integrarsi nella vita della giovane Beatriz, e comincia ad essere seriamente preoccupata per gli incubi notturni della ragazza. Ella è convinta che Beatriz riuscirà a ritrovare la parola, a patto ovviamente che venga seguita da un professionista competente, ma la governante Rogelia sembra di un altro parere. Per coinvolgere la giovane Mella, Camila le propone una passeggiata all'aperto, ma la fanciulla reagirà in modo piuttosto strano ed inaspettato, come se fosse fortemente spaventata da qualcosa.